Ciò che la Puglia teme davvero è il passo indietro, quello dell'Unione Europea sulla possibilità annunciata di tornare a piantare ulivi nel Salento, almeno le due varietà al momento ritenute in grado di reggere l'urto del dissecamento rapido. Leccino è favolosa. Sono anni che a fronte di migliaia di piante perdute non si consente, per legge, di reimpiantare l'albero. Il dietro front è l'ipotesi più nera, quella a cui la regione per ora non vuole pensare e si aggiunge al rischio, reso noto nelle scorse settimane, del riavvio della procedura di infrazione comunitaria sospesa lo scorso febbraio. Tutto questo per un batterio, la xylella fastidiosa, ritenuto tra le cause principali della malattia delle piante. Adesso l'Italia torna sotto accusa per la gestione della vicenda che sta mettendo in pericolo l'Europa. Appuntare l'indice, questa volta, è la rivista scientifica Nature, dopo il rapporto pubblicato il 31 maggio scorso dalla Commissione UE. Bruxelles spinge soprattutto lungo tre assi, chiede alla Puglia di rendere più efficace il monitoraggio sul batterio, di attuare misure di contenimento, ma soprattutto di agire tempestivamente nell'espianto degli alberi infetti nella zona Cuscinetto. Data fondamentale sarà quella del prossimo 20 giugno, quando tornerà a riunirsi il Comitato Fitosanitario Europeo, che parlerà anche di xylella.